La casa è un ambiente familiare, ma pieno di insidie per chi se ne prende cura. Elettricità, gas, fuoco, sostanze chimiche, cadute, sono le principali cause di incidenti domestici, anche gravi. Per questo Inail tutela chiunque tra i 18 e i 67 anni si occupi dei lavori in casa e dei familiari in maniera abituale, gratuita ed esclusiva, attraverso un'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici. Istituita nel 1999, la polizza assicurativa è stata aggiornata con la legge di bilancio per il 2019, che ne ha ampliato le tutele già previste, ovvero esteso fino a 67 anni il limite di età dei beneficiari, abbassato al 16% il grado di inabilità permanente necessario per la riscossione della rendita Inail, introdotta una prestazione una tantum di 300 euro per inabilità permanente accertata tra il 6 e il 15%, riconosciuto un assegno mensile integrativo per l'assistenza personale e continuativa ai titolari di rendita in gravi condizioni, innalzato a 10.000 euro l'importo dell'assegno una tantum a favore dei superstiti degli assicurati deceduti. Per iscriversi all'assicurazione è necessario pagare un premio annuale di 24 euro. La prima iscrizione si può effettuare esclusivamente sul sito Inail, accedendo alla sezione dedicata ai servizi online, selezionando Assicurazione casalinghe e casalinghi e successivamente Servizi online assicurazione lavoro domestico e domanda di iscrizione richiesta avviso di pagamento. L'accesso al servizio è consentito mediante Credenziali di accesso dispositive rilasciate dall'Inail solo fino al 30 settembre 2021, Carta nazionale dei servizi. Credenziali SPID Completata la domanda di iscrizione online, il servizio trasmette la ricevuta di iscrizione e l'avviso di pagamento pago PA all'indirizzo e-mail dell'utente. Una volta ricevuto l'avviso pago PA che contiene il codice IUV, è possibile pagare online, sul sito dell'Inail tramite il link pago PA, sul sito di poste italiane, sul sito della propria banca, su altri canali di pagamento previsti. L'avviso pago PA consente anche di pagare direttamente presso gli uffici di poste italiane, gli sportelli bancari, le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati al servizio, utilizzando contanti o carte o con addebito in conto corrente. È poi possibile utilizzare il servizio online Visualizza avviso di pagamento per rinnovo assicurazione, che permette di effettuare il pagamento del premio direttamente online tramite pago PA, stampare l'avviso pago PA contenente il codice IUV e procedere al versamento secondo le altre modalità indicate. Il termine per rinnovare l'iscrizione all'assicurazione scade il 31 gennaio di ogni anno. Questo consente di avere la copertura assicurativa dal 1 gennaio e in continuità con l'anno precedente. Per l'anno 2021, il 31 gennaio cade in un giorno festivo, per cui la scadenza è prorogata al 1 febbraio 2021. Se il versamento avviene oltre la scadenza, la copertura assicurativa riprenderà dal giorno successivo al pagamento effettuato. Si esonerati dal pagamento del premio assicurativo in caso di In tal caso è necessario presentare ogni anno la domanda di iscrizione all'assicurazione attraverso il servizio online Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva. Domanda di iscrizione e revisione a cura di QTSS